Contro la tua ex squadra subito una vittoria importante Sì, era a destino che giocassi la prima ufficiale proprio contro Terento Ma vittoria importantissima Abbiamo la possibilità già di giocarci il primo trofeo stagionale Quindi bene, naturalmente, solo inizio stagione C'è tanto da migliorare, bisogna ancora lavorare tanto Però intanto questa l'abbiamo portata a casa Cosa ti aspetti nella finale di domani con questa Lube? Questa Lube è ancora più forte dell'anno scorso secondo me È una partita molto difficile Loro giocano nel loro palazzetto, c'è tanto pubblico per loro Ma una finale sarà difficilissima, come è giusto che sia Quindi mi aspetto un'altra grande battaglia Si giocherà palla a palla, punto su punto Ma ripeto, come è giusto che sia, sento una finale Serviva Massimo con Lazzi per la Sir, per andare in finale? No, no, no Una battuta Assolutamente Servono tante cose Serve la squadra Un giocatore non può far vincere le partite Neanche Leon ti fa vincere le partite da solo Quindi figuratevi un libero Serve tutto Serve la squadra, serve far bene le cose in campo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti